Define Banking, podcast ufficiale di Azienda Banca, a cura di Alberto Grisoni. In questo episodio di Define Banking conosciamo una delle realtà digitali che si sta rivolgendo a partite IVA e professionisti. Anche se lo anticipiamo, entro fine anno è prevista l'estensione dei servizi anche alle PMI. Parlo di Finom, una realtà che nel nostro paese, fino a poco tempo fa, era presente solo con la fatturazione elettronica. Solo ovviamente si fa per dire. Ci facciamo raccontare le ultime novità da Antonio Lamura, Country Manager Italia di Finom. Antonio, benvenuto a Define Banking. Ciao Alberto, grazie per l'invito. Lo dicevo poco fa, Finom ha allargato recentemente la sua offerta. Ti faccio la domanda che è un classico di apertura qua nel nostro podcast. Che cosa è Finom e a chi si rivolge? Certamente. Finom nasce come un progetto fintech paneuropeo, fin dal suo concepimento. Con la volontà di diventare il servizio per liberi professionisti e imprenditori più utilizzato a livello europeo. Considera che ci siamo proprio posti un obiettivo di arrivare nel minor tempo possibile ad un milione di clienti in tutti gli stati europei, indipendentemente che questi si trovino in Italia, in Francia o in Germania. Ed è proprio per questo che abbiamo deciso di fondare il nostro headquarter in Olanda, nel cuore dell'Europa, e abbiamo cominciato a diffondere i nostri prodotti gradualmente in più mercati. Il primo, come hai anche anticipato tu, è stata l'Italia con la fatturazione elettronica. Il motivo per cui l'Italia è stata la pioniera del nostro prodotto è perché è stata la prima ad utilizzare uno standard di fatturazione per tutti i business, per tutte le partite IVA, tra l'altro sappiamo che ad esempio dal primo luglio anche i forfettari, che erano ancora esclusi da questo obbligo, saranno coinvolti e dovranno anche loro adeguarsi alla fatturazione elettronica, almeno per i forfettari che superano i 25 mila euro di fatturato all'anno. Per cui l'Italia è stata la pioniera, ma subito dopo siamo partiti in Francia e Germania con il nostro prodotto completo, che è composto da un conto business per professionisti, aziende, diciamo qualsiasi forma di business, con la fatturazione integrata. In alcuni casi siamo anche riusciti già a sviluppare delle funzioni di contabilità e di integrazione con software di natura fiscale, soprattutto ad esempio in Germania. Per cui è complesso dare una definizione singola alla nostra piattaforma, ma proprio perché vogliamo riuscire ad integrare e a soddisfare i nostri clienti nel fornire loro delle soluzioni che realmente possono supportarli la gestione della loro attività e perché no anche liberargli un po' di tempo o per far crescere il loro business o in alternativa anche per dedicarsi alla vita privata. In Italia, tornando quindi un po' al focus italiano, con il lancio del conto business stiamo andando un po' a complementare l'offerta di fatturazione seguendo quanto già detto, e cioè la volontà di voler supportare i nostri clienti nella semplificazione della loro attività amministrativa, che era un qualcosa che noi già avevamo cominciato a fare con la collaborazione con Klarna, che fornisce ai nostri clienti e alla nostra piattaforma il servizio di aggregazione di conto e di payment initiation, quindi con la possibilità anche di inviare dei link ai clienti che possono pagare tramite bonifico direttamente con la fattura. Oggi con il conto business andiamo in un certo senso a chiudere il cerchio e chiaramente a migliorare enormemente l'esperienza d'utilizzo della piattaforma e del prodotto completo. Proviamo a metterci nei panni di un professionista che ci sta ascoltando. Che cosa trova all'interno del conto Finom? Sicuramente la principale funzionalità è la user experience estremamente semplificata. Le principali caratteristiche della piattaforma, o meglio il nostro principale sforzo, è rivolto a semplificare quanto più possibile anche l'utilizzo e quindi rendere la dashboard quanto più intuitiva possibile anche nell'espletamento di attività che solitamente richiedono tempo o che solitamente richiedono il doversi sedere di fronte ad un computer per essere sicuri di non commettere errori. Noi in questa parte andiamo in un certo senso a semplificare tramite alcune semplici chicche che sono ad esempio l'integrazione con le camere di commercio per poter essere sicuri dei dati aziendali inseriti all'interno della fattura, i reminder di pagamento nel caso in cui un cliente non paga, riceve, o anche quando un nostro cliente, cioè un utente di Finom, deve pagare una fattura e non l'ha ancora saldata, riceve un alert che la fattura è in scadenza. e per quanto riguarda invece la concentrazione del conto business, il cliente trova anche una possibilità di confluire all'interno di questo conto tutti i guadagni ottenuti tramite l'attività professionale, separarli quindi dal loro conto personale e aggregandoli alle funzionalità della fatturazione, avere un'esperienza di gestione professionale della contabilità che pur trattandosi di professionisti e quindi potremmo definirla una microcontabilità nasconde anch'essa le sue difficoltà. Queste per me sono le caratteristiche diciamo più interessanti perché poi il conto si presenta come un ottimo conto business con tutte le funzionalità di base che sono necessarie alla gestione dell'attività finanziaria, per cui parliamo di carte fisiche e carte virtuali, tra l'altro abbiamo anche il cashback più elevato del mercato sul pagamento effettuati tramite carta fisica virtuale. Abbiamo la possibilità di aprire un digital wallet dove con IBAN dedicato è la possibilità di emettere carte dedicate, dove il nostro cliente, il nostro utente, può andare a effettuare ad esempio piani di accumulo per dei budget di spesa che prevederà in futuro. O anche abbiamo notato alcuni nostri clienti lo utilizzano per allocare una quota ai loro guadagni per il pagamento delle tasse. Prese singolarmente il conto ha numerosissime funzionalità che adeguano l'utilizzo di quel conto già a standard presenti sul mercato, ma la vera eccezionalità si ha con l'utilizzo della piattaforma completa insieme alla fatturazione. Negli ultimi tempi abbiamo visto diversi nuovi player che si rivolgono sia ai professionisti, sia alle PMI, poi nelle loro varie dimensioni, c'è chi magari si concentra maggiormente sulle realtà micro e chi invece va un po' più sulle medie. Dal vostro punto di vista come sta cambiando lo scenario competitivo italiano naturalmente su questo target? Sì, allora ti dico, io sono di quelle persone convinte che la proliferazione di attori che operano all'interno di uno stesso segmento di mercato e quindi l'incremento della concorrenza in quel segmento fa sì che chi ne ottiene maggiori benefici sono i clienti stessi. Per cui quello che è noto è che in Italia se qualche anno fa mancavano ancora soluzioni di questo tipo oggi cominciano ad essercene diverse e sta al cliente decidere quale soluzione soddisfa maggiormente le proprie esigenze in base a quello che sta in un certo senso cercando. La concorrenza fra noi operatori fintech è ancora molto relativa proprio perché il mercato è estremamente ampio e c'è ancora tantissimo spazio in Italia così come anche all'estero. Per cui abbiamo semplicemente grattato la superficie di quello che è poi il mercato bancario dei 25 milioni di partite IVA professionisti e aziende che sono presenti a livello europeo. La presenza di più attori che offrono questo tipo di servizio non fa nient'altro che da un lato, come già detto, migliorare gli standard qualitativi di prodotto e dall'altro anche aumentare la fiducia generale del consumatore, dell'utente, quindi dell'imprenditore nel nostro caso in questa tipologia di soluzioni. Quello che secondo me è il principale scoglio che tutti noi operatori fintech ci troviamo ancora a dover affrontare è proprio il concetto della fiducia del cliente che essendo ancora molto radicato alla territorialità degli istituti finanziari piuttosto che all'utilizzo di strumenti di conto soprattutto in un'ambito aziendale che non erano molto concentrati sul servizio ma più su prodotti, ad esempio su prodotti di credito o su altre forme di finanziamento far comprendere loro che esistono nuovi standard e che una gestione dell'azienda da un punto di vista amministrativo finanziario migliore rispetto a quanto fatto in precedenza è possibile è la nostra sfida la sfida di tutti gli operatori che appartengono a questo mercato poi come detto ognuno di noi si specializza in qualcosa di diverso Finom si specializza nella semplificazione della vita degli imprenditori da un punto di vista amministrativo e contabile per cui ci aspettiamo che il cliente che considera questo come uno dei principali pain point sceglierà anche la nostra soluzione Dicevi abbiamo grattato, appena grattato la superficie del potenziale bacino di imprese europee che possono essere raggiunte da un'offerta digitale e poi hai introdotto il concetto della fiducia del cliente Allora dal vostro punto di vista come si conquista questo cliente che sia una partita IVA o una PMI? Allora prima di tutto consideriamo che nel mondo dei servizi di banking diciamo degli operatori bancari tradizionali la classificazione del professionista o della microimpresa e quindi dell'azienda che ha un fatturato inferiore ai 2 milioni non ha un prodotto dedicato cioè molto spesso questi clienti rientrano all'interno di prodotti per lo small business ma small business include anche aziende da diversi milioni di fatturato e che quindi possono avere delle esigenze di natura diversa rispetto a quelle del microimprenditore di cui abbiamo parlato prima per cui la prima fondamentale iniziativa di intraprendere come a qualsiasi realtà che si vuole rivolgere a questa platea deve intraprendere è il fornire un livello di servizio che sia identico a quei prodotti che sono invece destinati a realtà imprenditoriali a imprese e aziende con fatturati maggiori con una differenza pienamente di prezzo quindi andare a creare un prodotto per grandi aziende ma che sia alla portata di tutti anche del singolo professionista e del singolo imprenditore inoltre bisogna rendersi conto anche di un altro elemento e qui è forse un po' più legato al marketing o alle modalità di interazione e di engagement di questi clienti nel mondo delle vendite B2B quando si parla di grandi aziende esistono delle modalità di interazione che prevedono anche il coinvolgimento di diversi attori all'interno dell'azienda che possono essere a seconda dei casi il responsabile del marketing piuttosto che il responsabile amministrativo e si entra all'interno di un processo decisionale relativamente ampio l'azienda di medie dimensioni comunque è soggetta a discussioni è soggetta a determinate scelte che non sono necessariamente dirette dalla preferenza dell'imprenditore ecco invece nel caso di professionisti di micro imprese il cliente è il diretto imprenditore è quindi la persona che molto spesso non solo gestisce ma che ha anche creato l'azienda e che ha un rapporto affettivo con la sua attività di natura diversa e come conquisti questa persona? la conquisti rendendoti conto che non è solo una partita IVA ma che è anche una persona fisica cioè anche una persona con la quale andare a lavorare per semplificargli i suoi problemi e quindi noi in Finom fin da subito abbiamo deciso di investire in un rapporto umano nel nostro customer support che per noi è una vera e propria interfaccia del prodotto nei confronti del cliente siamo riusciti a raccogliere la sua fiducia tramite proprio queste interazioni reali tra l'imprenditore che aveva un problema e i nostri colleghi che glielo risolvevano è stato anche l'elemento che ha premiato Finom con un ottimo rating su Trustpilot che poi è un po' la rappresentazione della qualità del servizio e del prodotto dove oggi siamo a un livello molto alto e cioè 4.8 lo dicevamo prima entro la fine dell'anno i servizi verranno estesi anche alle PMI però magari dacci qualche altra anticipazione quali altre funzionalità sono in arrivo su Finom nei prossimi mesi? Sì, corretto quanto dici lo sviluppo di prodotti FinTech mi piace spesso dire che è una maratona o una forse staffetta dove si cerca sempre di rilasciare una soluzione nuova prima possibile ma nei limiti del fatto che tale soluzione debba essere testata e debba essere validata sia da un punto di vista di software che da un punto di vista di processo per cui ti confermo il nostro interesse per arrivare quanto prima sul mercato nei prossimi mesi con il prodotto per le aziende ma oltre a questa stiamo concentrando tutte le nostre risorse in un miglioramento generale della piattaforma con micro-release non potrò elincartele proprio perché sono evolutive rispetto a quanto già in essere e sono realmente decine e decine forse lo spoiler che posso dare è molto, in un certo senso, imprevedibile che stiamo lavorando intensamente all'introduzione tra i sistemi di pagamento all'interno della nostra piattaforma dei cosiddetti local payments con particolare attenzione al servizio del pagamento dell'F24 a complemento del rilascio della possibilità di pagare l'F24 andremo ad abilitare un nuovo use case a migliorare l'esperienza di collaborazione con il commercialista che oggi è già possibile all'interno della piattaforma di fatturazione e del conto ma che verrà poi arricchita con numerosi altri servizi proprio in funzione del pagamento fiscale Antonio, grazie mille per essere stato con noi oggi grazie a te Alberto è stato un vero piacere poter partecipare a questo podcast grazie a tutti